musica musica adios kid Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di Amnesia The Dark Descent Della storia personale Abduction Qui col vostro vale 93, ma allora L'ultima volta praticamente abbiamo trovato l'uscita dalle miniere Peccato che dovevo semplicemente andare dall'altra parte Allora, qui c'è una porta Che non vogliamo controllare adesso e Oh, tinderbox Sei mia tinderbox Anche tu sei mia altra tinderbox Lì c'è dell'olio che devo usare come il pane Va bene, va bene, va bene Cosa abbiamo qui? Nessun ingrediente che sto cercando Qui? L'unica cosa da fare è cercare in questa stanza Buonasera Aspetta ma Sbaglio o ci sono già stato? Sì, questa è l'entrata delle miniere Quindi non ho fatto altro che fare il giro Che cavolo Non ho ben capito dove mi interrogo Ehi là C'è nessuno qui? Oh, un cesto Bene Bene Ah Qui non c'è nulla Che deve interessarmi, vero? Perché mi sentirei davvero Una merda Se dovessi Perdermi così il mercurio Sapete Ok No, ho finito ancora l'olio Che palle Che palle Qui? Dove si va? Dove si va? Oh no Aspetta Questo è il corridoio Miserabile Qui? Oh, questa era la porta bloccata Forse Che non ha motivo di esistere Tra l'altro Se non Per questa tinderbox Questo Laudan Anzi Pozione di sanità Non c'è niente qui Assolutamente nulla Ok Va bene Va bene Capisco che devo Dei farmela tutta Ok Probabilmente devo Trovare un'altra Zona Dove andare Delle miniere Vediamo Aspetta Dunque Le note C'è Allora Che memoria Dunque Ora che ho il sangue Il bermino No Allora il mercurio Vediamo Dovrei avere qualche note Sul mercurio Ok Spiders So many spiders The mine is crawling with them I'm not going there Blah 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 No 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 Va bene ragazzi Io devo tornare Nelle miniere Alla ricerca di Non so che cosa Facciamo che appena La trovo Noi riprendiamo Il nostro gameplay Ok Quindi Un attimo solo Mi raccomando Ok Non so perché Ma L'entrata alle miniere È diversa Prima non c'era Questo cesto Oppure Sono io Cretino Che Non l'avevo visto E Qui Ho trovato Una nota Una nota Che adesso Dovrei farvi vedere Direzione Allora La miniere Terribilmente Com Blah 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 È difficile Mantenere La strada Blah 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 Per questa ragione Ho segnato Dove trovare Il cinnibah Cinnabar Che non so ancora Che cosa sia E Praticamente Ci dà Le direzioni Da seguire Che sono La prima A destra Anzi a sinistra Poi a destra Poi a sinistra Cammina Finché Non trovi Loro Estrai Loro Girati Di 180 gradi E Segui I prossimi Passi Per scappare Blah 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 Però alla fine dice Aspetta È giusto Non mi ricordo Quindi non so Fino a che punto Devo fidarmi Di questo Uso Non c'è niente Va bene E Allora Credo che le miniere Siano Sempre queste Ok No Ancora Qui Bastardi Schifosi Autozappe Che non si vede Allora Vediamo Le note Devo seguire Le note Quindi Prima A sinistra Poi destra Poi sinistra Va bene Allora Sinistra Poi destra Poi sinistra Ehm Aia Bastardo Schifoso Di guadagno Ok Quindi questo Dovrebbe essere Loro Tecnicamente Credo Quindi Note Quindi Estrai Loro Come faccio Estrarlo Ho messo Che sia Questo Mi fa Estrai Loro Ottimo Ma Come faccio Oh Forse Semplicemente Non è questo Cazzo Devo mettere Un po' D'olio Se no Non ci vedo Assolutamente Niente Allora Questo Dovrebbe essere Loro Però Mi dice Estrai Loro Con che Coda Aspetta I have taken Chunk of War And put In my pocket And leave this Pested Place Ok Aspetta Si è aperta Una via Qua Aspetta Sentiamo Per memoria Anzi note Allora Mi son girato Di 180 gradi E Segui Nuovi passi Per aggiungere L'uscita Quindi First left 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 Ok È un fotuto casino Lo so Fa male questo Allora Mi diceva left Io vado a left No Non di qua Sì Seguiamo il Ok Spero che sia La strada giusta Perché se no Davvero Non so dove Andare Oh mio dio Mi son perso Note Allora Keep straight And ride Ok 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 Allora Praticamente Adesso Sempre a destra Dove Andare Ah C'è quello Schifoso Da queste Parti No Mi ha Detto La strada Sbagliata Ah No Aspetta Come faccio a passare Oh si Sono passato Grande me stesso Di qua c'è una strada No Ancora a destra Vado sempre a destra Adesso Dove cazzo sto Aia Bastardo Schifoso Non dovrebbe esserci La via d'uscita Oh cazzo Dove sono Mi son perso Ah no Di qua continua Però Non continua Ottimo E' un fottuto Casino Un fottuto Casino Oh si Che lo Ok Va bene Ma vaffanculo Agnaccio E vai a cagare Madonna Salta Daniel Così magari Non ti piglia The long pathway Magari è questo Non vorrei dire Stranzate Però mi sembra No Eh vabbè Tanto non puoi uccidermi Ragni Allora Continuiamo così Continuiamo così E vedrete Perché la nostra vita Pian piano Se ne andrà Basta Voglio andarmene Da questo Posto orribile Oh mio Dio Oh mio Dio Sì 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 Andiamocene Basta Non ne posso più Non ne posso più Andate a fare Bip Voi Il mercurio La pozione Questa storia Questa storia Tutto Andatevene E penso che Il computer Vi abbia Letteralmente Mandato a quel paese Quindi ragazzi Noi ci vediamo Per il prossimo gameplay Quindi un ciao Dalla vostra Valina Matata E va Ciao